Benno, ma dove credete di stare? Chiesa, ma tu? Chiesa, ma? Sono il principe ascanio a Gavallini Gaitani, assistente al Soglio Potificio, c'ho due papi comantanati e sono il padrone di casa. Piuttosto mi domando, ma che cazzo siete voi? Italiani, brava gente. E vedi un po' che pago pure le tasse, sai che faccio? Lavoro, sgobbo, sudo, penso. Ma da che? Con me non passano. Grandi lavoratori. Noi siamo qua per fornire i servizi legati al magico mondo della domotica. La domotica. Ma non l'acchetta. Che dici? Dici che non c'è fanguto. Tutti casa e famiglia. Mamma, rucarmi. Si chiama Svetlana. Paccato che tu pagati in anticipo, secondo me io moro prima. Pronti a mettersi in gioco. Fatemi avvi, sei mesi fa, mentre allo stadio Pentecoti la Fiorentina vinceva, e io gioivo, tu in camera d'albergo facevi la maiala e gioivi con il veronese. Gioivo, gioivo, è stata una cosina, una cosetta, cucciolo, una cosina. E la politica? Se io finisco a poggioreare, qua viene fuori lavoraggine di... Alfonso, sono Leonardo. Ma che che... No, che che... La comedia musicale americana, i gatti. Nord o sud? E questa cosa l'è? Come cosa l'è? Dai, ciao, tira per la grana, terrona, dai, dai. Terrona a me, che sono volontaria delle ronde di quartiere e faccio le vacanze solo a fonte di legno. Ma figurez. Avete voluto la democrazia? E mo' vai a prender cumo. Non è importante chi sei? Lo chiede alla sua seguitare se soffrocio. Ma pure questa, centina, che c'hai a posto d'orecchie, tu paramo. O cosa fai? Luigi! Marisa! Chi è questa verticona, chi è? Mia figlia. L'importante è che sia... C'è socchi. Duce tronche che vogliono vendere il cellulare che accende il foglio. Puoi interessare? Che cazzo è stato dicendo? Una buona giornata. Quando torna a cazzo la temperatura della sauna è come doppia. Ma che? Quando torna a cazzo, va a fare il cuore, dammi il cioccolatino. Ma va a fare il cuore. Dal 30 marzo al cinema. Qui da papà sono passati i più grandi nomi dello spettacolo. Abagano, Zazà Gabor, Laurent Bacol, Martin Carole. Questi sono maritozini.